Benvenuti e bentornati cari ascoltatori su Radio Puginion Air, la vostra fonte di informazione musicale preferita. Oggi siamo entusiasti di condividere con voi alcune emozionanti novità dal talentuoso cantautore toscano Motta. A distanza infatti di due anni dall'uscita dell'acclamato album Semplice, Motta ha finalmente annunciato il suo prossimo lavoro discografico, un nuovo album dal titolo suggestivo Anime Perse. È stato annunciato direttamente dall'artista stesso tramite i suoi account sui social media. Motta ha condiviso con i suoi fan il suo processo creativo, sottolineando l'importanza di prendersi il tempo per scrivere canzoni che catturino veramente l'anima. Questo silenzio creativo è ora giunto al termine e non potremmo essere più emozionati. Anime Perse è un lavoro straordinario scritto dallo stesso Motta e prodotto in collaborazione con Tommaso Colliva. Il nuovo album sarà disponibile sia in formato digitale che fisico a partire dal prossimo 27 ottobre. Questo progetto è il risultato di mesi e anni di studio e Motta ha lavorato a stretto contatto con amici e musicisti straordinari per portare questa opera alla luce, un'attesa che ha sicuramente aumentato le aspettative dei suoi fans. Ma le sorprese non finiscono qui. Infatti in attesa del lancio dell'album, il 29 settembre, ossia dalla mezzanotte di oggi tra pochissime ore, arriverà il singolo Per non pensarci più. Un singolo a sorpresa che anticiperà il grande ritorno di Motta. È una notizia che farà battere più forte il cuore di tutti i suoi sostenitori, quindi tenetevi pronti per questa straordinaria anteprima musicale che avverrà davvero tra pochissime ore. E non è tutto. Motta è pronto a fare il suo trionfale ritorno sul palco con un tour nei club italiani che si apre annuncia entusiasmante. Ecco le date da segnare sul vostro calendario. Il 27 ottobre a Livorno, il 9 novembre magazzini generali di Milano, il 10 novembre all'Hiroshima Monamur di Torino, l'11 novembre a Treviso, il 16 novembre Firenze, il 17 novembre Bologna, il 23 novembre a Pozzuoli, Napoli, il 24 novembre all'Orion di Ciampino, Roma. Questo tour rappresenta un'opportunità imperdibile per vivere l'energia e la passione di Motta dal vivo. Un mese di concerti nei club italiani è un'esperienza unica per tutti i suoi fans. E non dimenticate dunque che tra pochissime ore uscirà il suo nuovo singolo per non pensarci più. Noi ci riascoltiamo presto qui a Radio Puginio NER.